c'era una volta uno strano violinista che se n'andava solo solo per un bosco e pensava a questo e a quello e quando la sua mente non ebbe ove posarsi disse fra sé mi annoio molto qui nel bosco voglio cercarmi un buon compagno si tolse di dosso il violino e si mise a suonare sicché il suono si diffuse fra gli alberi poco dopo ecco venire un lupo trottando per la boscaglia viene un lupo quello non lo desidero proprio disse il violinista ma il lupo si avvicinò e gli disse oh caro violinista come suoni bene vorrei imparare anch'io è presto fatto gli rispose il violinista devi soltanto fare tutto quello che ti ordino oh violinista disse il lupo ti obbedirò come uno scolaro il suo maestro il violinista gli ordinò di seguirlo e quando ebbero fatto un pezzo di strada insieme giunsero una vecchia quercia che era a cava internamente e spaccata nel mezzo guarda disse il violinista se vuoi imperare a suonare il violino metti le zampe davanti in questa spaccatura il lupo obbedì ma il violinista prese in fretta un sasso ed un sol colpo gli conficcò le zampe nel legno così saldamente che il lupo dovette starsene là prigioniero aspetta qui finché torno disse il violinista e se ne andò per la sua strada dopo un po disse di nuovo fra sé annoio molto qui nel bosco voglio cercarmi un altro compagno prese il violino e di nuovo si diffuse il suono nel bosco poco dopo ecco venire una volpe strisciando fra gli alberi ah viene una volpe disse il violinista questa non la desidero proprio ma la volpe gli si accostò e disse ah caro violinista come suoni bene vorrei imparare anch'io è presto fatto disse il violinista devi soltanto fare tutto quel che ti ordino oh violinista rispose la volpe ti obbedirò come uno scolaro il suo maestro seguimi disse il violinista e quando ebbero fatto un pezzo di strada giunsero a un sentiero fiancheggiato da alti cespugli allora il violinista si fermò da un lato del sentiero curvò fino a terra un giovane nocciolo e ne premette la cima col piede dall'altro lato incurvò un altro alberello e disse orsù volpicina se vuoi imparare qualcosa porgimi una delle tue zampe davanti la sinistra la volpe obbedì ed egli le legò la zampa al fusto di sinistra volpicina disse ora porgimi la destra e la legò al fusto di destra dopo essersi assicurato che i nodi delle corde fossero abbastanza saldi lasciò la presa e gli alberelli si rizzarono e lanciarono in alto la volpe che restò sospese in aria a sgambettare aspettami qui finché torno disse il violinista e se ne andò per la sua strada di nuovo disse tra sé mi annoio qui nel bosco voglio cercarmi un altro compagno presi il violino e il suono si diffuse per il bosco allora ecco venire a gran balzo un leprotto viene una lepre disse il violinista questa non la volevo ah caro violinista disse il leprotto come suoni bene vorrai imparare anch'io è presto fatto disse il violinista devi soltanto fare tutto quel che ti ordino oh violinista disse il leprotto ti obbedirò come uno scolaro il suo maestro fecero un pezzo di strada insieme finché giunsero una radura nel bosco dove c'era una tremula il violinista legò un lungo spago al collo del leprotto e ne annodò l'altro capo all'albero svelto leprottino ora salta venti volte intorno all'albero e scremò il violinista e il leprotto obbedì e quando ebbe fatto i suoi venti giri lo spago si era torto venti volte intorno al tronco e il leprotto era prigioniero e aveva un bel tirare e dar strattoni si tagliava soltanto il collo delicato con lo spago aspetta qui finché torno disse il violinista e proseguì intanto il lupo aveva dato spinte e strattoni aveva morso la pietra e si era tanto adoperato che alla fine si era liberato tirando fuori le zampe dalla spaccatura pieno di collera di rabbia corse dietro al violinista e voleva sbranarlo quando la volpe lo vide cominciò a lamentarsi e gridò con tutte le sue forze fratello lupo vieni ad aiutarmi il violinista mi ha ingannata il lupo curvò gli alberelli con un morso spezzò le funi e liberò la volpe che lo accompagnò per vendicarsi del violinista trovarono il leprotto legato liberarono anche lui e poi tutti insieme andarono in cerca del loro nemico per la strada il violinista aveva ripreso a suonare e questa volta era stato più fortunato i suoni giunsero all'orecchio di un povero boscaiolo che subito lo volesse o no interruppe il suo lavoro e con l'ascia sotto il braccio si avvicinò per sentire la musica finalmente viene il compagno che fa per me disse il violinista un uomo cercavo non bestie selvagge e cominciò a suonare così bene e con tanta dolcezza che il pover uomo se ne stava incantato e si sentiva allargare il cuore dalla gioia e mentre se ne stava così si avvicinarono il lupo la volpe e il leprotto ed egli si accorse che tramavano qualcosa allora sollevò l'ascia rilucente e si mise davanti al violinista come a dire chi gli vuole male si guardi l'avrà da fare con me allora le bestie impaurite di corsa tornarono nel bosco ma il violinista per ringraziamento suonò un altro pezzo e poi proseguì la sua strada ringraziamento suonò un altro pezzo e poi proseguì la sua strada di corsa tornarono nel bosco ma il